Salutiamo Gogeta Cosa? Buongiorno a tutti ragazzi qui è Dani dalla vostra Infire Family Vi do il benvenuto nel live showcase numero 2 Dove andiamo a testare un meraviglioso Broly che ci ha costato 180 euro Personaggio che abbiamo avuto la fortuna di pullare all'interno del banner Dei Blue Boys assieme a tutto l'ambaladam di personaggi Di cui stanno uscendo piano piano gli showcase Vi anticipo che potrebbero arrivare nuovi video pull Non perché ci ho preso gusto ma perché inizierà una challenge con i ragazzi in live Che se dovessi perdere mi porterà a fare un altro video pull Avete più dettagli nel tempo, abbiate fede, sarà veramente divertente Intanto ringraziamo Shitposter fallito per la sub Nome meraviglioso Signori ne ha provato il nostro Broly Primo team in cui lo andiamo a testare sarà il Super Saiyan Non ero molto convinto di giocare Super Saiyan anche perché siamo in top molto alta Infatti ci faremo giusto un match E poi lo proviamo nel Powerful Opponent e nel Sagas From The Movies Vediamo come si comporta anche perché ripeto abbiamo sborsato fiori di quattrini E non vedo l'ora di vedere che cosa fare quando Kritta Ma soprattutto quando l'avversario è unito a switchare Lui si cura insomma Broly è fico vedrete Siete pronti? 3, 2, 1 Go! Ok match numero 1 Siamo contro Rook Vediamo se riusciamo a portarci a casa la partita Non mi pare un team troppo difficile da counterare Soprattutto dato che abbiamo 4.180 di ability bonus Proviamo! Ok ragazzi match number 1 Vediamo un pochino Supa Vegito Che parte col Bariaddo subito Andiamo così Io ho paura di Vegeta o Gogeta Quindi io droppo subito Ok iniziamo con il Crittozzi Il Crittozzo era solo uno Va bene Per essere comunque contro a uno dei personaggi più tanki Contro la prima combo soprattutto Non si è di sicuro comportato male Beh io lo faccio continuare da Vegito ora Ok Droppino per Vegeta Ok Stiamo volando ragazzi Devo attivare i miei cheat Dell'ultra istinto per vincere questi match Tanto ringraziamo Marchino08 per la sub Grazie mille bello Ti dedico questo urlo di Broly Mannaggia no Vegito derfo Eeeh partito Mi sa che dovremmo sacrificare Vegito qua Ok buono Ma questo magari è un bel crit Tac Va bene così lo stesso ragazzi Ce lo becchiamo Il mio fa più danno No faccio più o meno lo stesso danno dai Ok andiamo così Ah però Bel blocco Nooo No l'RR no potevi tirare mille main era molto meglio Ha un po' attraia Insomma ha panicato non so bene cosa abbia fatto Ok E magari lo doggiamo anche No non lo doggiamo Beh effettivamente la blue Eeeh Potevo evitare di sceglierla L'RR è un po' buttato Vabbè Va bene Va bene Allora Andiamo Adesso io Rush adesso Devo Controbattere la La kill E qui ragazzi Però ecco la strike Che è quella un po' meno Predictabile Sono un po' sotto Ok Allora Eeeh Ci serve il vanish Nuovo di Eeeh Vegeta Di Bardock Perdonatemi Ora Broly si carica un pochino Ti prego Gogeta Ok Questo è un Da vincere ma Mi devo concentrare qua ragazzi Mmm 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 Vai Va bene Beh oh Siamo contro Colore di Svantaggio Comunque Stiamo facendo danni Da colore neutro Praticamente No Sono danni da neutro Questi ragazzi Ok Salutiamo Gogeta Cosa 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 No vabbè Questo ragazzi Non me l'aspettavo Questa non me l'aspettavo L'ho letteralmente salutato Ok è morto Va bene Ok Ma ha crittato Non me ne siamo accorto C'è un leggero lag Tipo leggerissimo Eeeh Però questa partita ragazzi Non posso buttarla C'è la gloria di Di Broly Ragazzi non quittate il video adesso Vi prego È il momento più hype Ok Ok Vi giuro che Concludo il match Con questa combo Così non avrete Da vedere robe Dai ora Broly Critta E finisce il match No Dai Broly Per favore Critta Mannaggia Hai pure l'equipaggiamento Del critico Mannaggia Ha crittato Quei pugnetti Va bene Ragazzi Broly sta crittando Quando non deve crittare Ora qui Aspetta No Va bene Eh ragazzi Sta pescando molte carte Ragazzi eh Proviamo a prenderci La terza carta E basta Solo tre Ok L'ho calcolata bene Teoricamente Ora dovremmo essere Safe A meno di eventuali Secondi RR Ok Wow Broly hai One shotato Gita Green Complimenti Match numero uno Già sudato Sono contento Passiamo al Powerful opponent Quello è già più solido Vediamo come si comporta Signori Seconda parte Dello showcase Benvenuti Poi seconda parte Siamo già Match numero due In realtà Andiamo con il Powerful opponent Questo è un team molto solido Che non possiede Né Zenkai Né altro Quindi secondo me È un'ottima alternativa E un'ottima line up Per coloro che non possiedono Dei personaggi Zenkai Magari hanno iniziato a giocare da poco Sono tutti personaggi Facilmente trovabili C'è Cell Purtroppo che manca Ma è tranquillamente Sostituibile Con qualsiasi personaggio Powerful opponent I Powerful opponent Sono davvero tanti E credo che ultimamente Stiano proprio Diventando un team Abbastanza solito Soprattutto dal punto di vista difensivo Non faremo dei danni assurdi Però ci sta Ci sta Vedrete Andiamo e Continuiamo Top 3.196 Ok Full viola Non porteremo dei verdi Semplicemente Andiamo con Cell Broly E Bojack Va bene Vediamo un po' Questo è l'ultimate test Ragazzi Se si batte sto team qua È finita Beh dai Il danno comunque non è male Questo purtroppo Lo doggia Io voglio provare A fare subito Cell Ok Mettiamo il nostro Broly Che vi ricordo Avere un bel cover Sulle Strike Buono questo Io non so se Ci sia già Vegito Teoricamente sì Però Non voglio scoprirlo Andiamo con la Blue Speriamo di feintare Broly sei un Maledetto bastardo Ti adoro Urla Urla Mamma mia Il feint Della vittoria Ragazzi Ragazzi Questo era il feint Della vittoria Ah è arrivato subito In Hit Allora non è Della vittoria Attenzione Attenzione Aia Uh L'ho preso Perché ha tirato la verde Ero convintissimo Che non l'avrei preso Cosa cambia tutto Bei danni di Blast Comunque eh Su Goku e Vegeta Bei danni di Blast Su Goku e Vegeta Non male Wow Ed erano Blast Non erano Strike eh Ok Va bene Broly Attenzione Hit eh Questa se la vinciamo Full team di Broly Full team di Broly Ragazzi Fa tutto lui Fa tutto lui Fa tutto lui Da solo Uno contro tre Uno contro tre Eh Questa La vedo un po' tosta Beh io questa Comunque la lancio No Maledetto Cosa? La weekend di Bojack Solo passa il Big Bang Attack Questa mi è nuova Effettivamente è la prima volta Che vedo questa interazione Wow Bella partita Cavolo Quel 20 Ci ha un po' aiutato Diciamo la verità Però Comunque fa parte del gioco No? Prossimo match So Sousuke È tipo Il fratello cattivo Di Sasuke So Sousuke Va bene Guarda io Sono affatto apposta Per setappare Selle In questo Mi settappo Mi settappo Siamo Bro Bojack Ho sentito eh Namo Eh dai Bojack Caria Comunque Dai Vediamo Beh questo Tra quarti di vita Glieli toglie Anche di più ragazzi No La strike Era perfetta ragazzi No Broly Uh Madonna che danno Fortuna che i bonus Non sono attivi Ok Ce l'abbiamo Selle è pronto ragazzi Ah Oh Eh qui Sacrifichiamo Cell O Bojack Che potrebbe Shottarmi Con un ultimate Non lo so ragazzi Aspettiamo Un'altra Blast La terza Aspettiamo Ragazzi Fermi Buono Buono Io dropperei Per Vegeta Però Non adesso Mettiamo Cell Prima Mi tocca Ragazzi Che pale Non si è Fatto fregare Non si è Scusate ragazzi è la concentrazione dei broli questa Se no mi stompano 1.800.000 ragazzi guardate come urlano 180 euro canonica oltretutto Top prossimo match Signori benvenuti nell'ultima parte dello showcase dove andiamo a giocare 180 euro di pura rabbia Dove ero obliterato completamente utilizzando un ultimate move Con tanto di legendary finish da 1.800.000 su Goku e Vegeta Purple del nostro broli Andiamo a provare il team Sagas from the Movies Un po' revisitato cerco di mettere meno Zenkai possibili per consentire magari anche ai ragazzi nuovi di provare a montare questi team e di divertirsi un attimo Quindi ce la rischiamo un attimino con una line up un po' meno solida del solito però almeno questi team sono giocabili un po' da tutti Ok ragazzi in match finale proviamo un pochino questo Sagas from the Movies Va bene Insomma va bene va bene Sta gran ceppa va male C'è pure Trunks a 14 Porca vacca Io aspetto Rosè Oddio Cosa fai qua? Sì Fai così Va bene Entra Toranx Sto pescando 47 carte e mezzo Mettiamo Cacarotto Ok Eh? Ah è vero le 14 stelle Che pazzo che sono Mi sono dimenticato di questo dettaglio importantissimo Cioè dicevo ma non mi shotterà mai Invece no a 14 stelle poteva farlo Sapete che qui ragazzi Gogeta potrebbe fare kill Anzi Quali probabilmente farà kill Anche però bisogna stare attenti perché c'è Rosè a 14 stelle Qui non lo so ragazzi Anche Mirai era molto stellato Mi sa che farò un po' di fatica Vediamo Ovviamente Vai Broly Vediamo Rosè Il team stellati ragazzi Eh dai Broly Almeno la retta Qui la cosa Interessante sarebbe Oh Cavacca Oh Ok Questo ragazzi Ha la capacità di giocare Di una persona Che ha iniziato a giocare A Legends Da una settimana Con tutto il rispetto caro Eh giuro Non voglio offenderti o altro Però Lasciano parecchio desiderare Queste abilità ragazzi La partita può essere ancora vincibile eh Per carità Eh qua mi serve l'RR Per parare Per carità Grazie a tutti. Va bene, main. Non tira la main, ma poteva usare per bloccare. Vabbè, non facciamoci domande. La blasta vicino? Mi serve la Goku, verde. Mi serve la Goku. Mi serve la Goku, verde. Mi serve la Goku, verde. Non la verde Goku. La Goku, verde. Oh, adesso è arrivata. Mi serve per stallare però questa. Porca vacca, ho sbagliato. Oh, cielo. Questa era la prima strike. Le altre togono meno. Broly non ha fatto nulla, però era un match contro Trunks e Black a 14 stelle. Ragazzi, dopo una dimostrazione che le stelle su questo gioco aiutano ma non ti fanno vincere le partite in maniera automatica, direi che lo showcase può terminare qui. Broly ha già fatto abbastanza, ha già fatto vedere delle partite meravigliose, soprattutto nella fase iniziale. E direi che si è meritato a pieni voti il nostro encomio per unità da 180 euro. Meritatissimi, ragazzi. Detto questo, dai, vi saluti, vi dà appuntamento ad un prossimo video. Ci vediamo sul canale con nuove e interessantissime rubriche e speriamo anche qualche nuovo showcase di personaggi. Non so quando uscirà questo showcase, probabilmente uscirà prima lo showcase di Goku col cappotto, perché bisogna dare la priorità ai personaggi nuovi. Però, vabbè, vedremo quello che succederà in futuro. Ciao! Ciao!